Qualche giorno fa, quando ho ricevuto la chiamata di Giampaolo Montali, in cui mi chiedeva di accompagnarlo virtualmente in questa importante giornata in cui riceve la laurea honoris causa in scienze motorie dell'Università del Molise, sono rimasto un pochino sorpreso, perché io e Giampaolo ci conosciamo da più di 30 anni, ma siamo sempre stati amichevolmente in conflitto. La pensiamo spesso in modo diverso, abbiamo discusso molte volte, però il nostro rapporto non si è mai interrotto. Giampaolo è una persona che ha una spiccatissima abilità relazionale, l'ho visto muoversi con tranquillità in tanti ambienti diversi, l'ho visto vincere nella pallavorone club nazionale, l'ho visto navigare tranquillamente nel mare tempestoso del calcio in Serie A e adesso guida con maestria un progetto importante nel golf a livello mondiale. È una persona che ama l'arte, è un collezionista, è uno che ama vivere con un certo stile di vita. È anche una persona sagace e credo che a lui questo termine piaccia moltissimo. Inoltre, ogni volta che ci vediamo mi ricorda che tutti i titoli più importanti che ho vinto nel club li ho vinti solo quando c'era Giampaolo in panchina e questa cosa, pur come un po' gli dispiacere, la devo concedere, è proprio così. Però adesso, a parte gli scherzi, godi di questa importante giornata e sappi che se vuoi discutere basta che mi chiami e ci diventeremo sicuramente entrambi. In bocca al lupo da Andrea Zorzi In bocca al lupo da Andrea Zorzi